Le questioni che avete avuto e ringrazio ovviamente tutte le autorità locali, i sindaci, i presidenti, il governatore, i prefetti, i presenti, il prefetto di Campobasso di Partito Eglia ci sta ospitando, alla quale chiederemo, come dire, di continuare a ospitare per quanto sarà necessario questo progetto. Spero di rincontrarvi presto e spero davvero che potremo realizzare insieme un grande progetto. Il consiglio che vi permetto ultimo è cercare già voi di entrare nell'ottica di un sistema. Quindi quando pensate a questi progetti, non solo alla sostenibilità nel tempo, alla plausibilità, ma ecco, se riuscite già a coordinare tra di voi, insomma, per rendere il progetto ancora più forte, ancora più coeso, ancora più collegato e navigato al territorio, piuttosto che ognuno, voglio dire, concepire una propria iniziativa individuale senza nessun coordinamento, ecco, immaginate che chiaramente se ne appartaggerà l'intero sistema, l'intera strategia di sviluppo che stanno programmando. Grazie ancora per l'attenzione e davvero buono. Grazie. 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 Grazie.